La giunta comunale di Fano ha approvato questa mattina e presentato alla stampa il rendiconto della gestione riferita al 2020 anno nero della pandemia da covid-19. Il virus ha influito sulle scelte del comune che nel corso dell'anno ha provveduto a una doppia manovra di salvaguardia di cui l'ultima ad ottobre rivedendo le priorità. Tra queste le agevolazioni sulla tassa sui rifiuti per le famiglie e le imprese in difficoltà, quasi mille in totale, e i rimborsi della TOSAP la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per aiutare ambulanti ed esercenti. Inoltre, fin da subito, sono stati messi in sicurezza i servizi educativi e sociali, tagliando le spese ritenute superflue, in particolare nel settore della cultura e degli eventi, tra cui la Fano dei Cesari. Il comune di Fano ha un bilancio virtuoso, chiude in modo importante con un avanzo di amministrazione che sottolinea la sua capacità di recepire risorse e mettere in campo progetti, perché il risultato tra parte vincolata e parte libera è di 36 milioni di euro e la grande maggioranza di queste sono risorse già destinate a opere o a servizi trasversali a tutta l'amministrazione che l'amministrazione è stata capace di recepire con la contribuzione, con il contributo di altri soggetti, tra cui soggetti bandi europei, ministeriali e risorse che possono sottolineare la capacità del comune di Fano di dialogare e di recepire importanti risorse che fanno investire sul nostro territorio. Per l'approvazione del bilancio, ci spiega l'assessore, ora manca l'ultimo step. La delibera verrà presentata in Consiglio Comunale mercoledì 28 aprile. Nell'arco dello scorso anno circa un milione di euro è stato impiegato per la riapertura dei centri estivi e delle scuole a settembre. Oltre due milioni invece sono stati destinati ai servizi sociali, cioè ai buoni alimentari, alla rete locale di solidarietà e alla conversione dei servizi educativi a domicilio in quelli a distanza. Per i lavori pubblici invece sono stati spesi oltre 6 milioni di euro, dalle scogliere di Sassonia all'adeguamento dello stadio Mancini, dalla scuola di Cucurano Carrara all'immobile di Gimarra per fini socio-culturali. Oltre ai lavori di adeguamento di spazi e aule didattiche in base alle nuove norme anticontagio. Ottima, ha detto il sindaco, anche la velocità nei pagamenti che vengono eseguiti in media in soli 22 giorni. Questo è un comune parsimonioso, ben amministrato, è tra i comuni meno indebitati, è tra i comuni che ha la minore incidenza del costo della spesa anche della sua organizzazione. Ma quello che mi piace sottolineare è anche gli investimenti che faremo, perché con l'avanzo che abbiamo conseguito ci sarà la corsa finale per questi tre anni di mandato che ci rimane ancora per delle grandi opere importanti, che si abbineranno con quelle a cui abbiamo partecipato ai bandi ministeriali. In particolare ripartiremo anche con importanti manutenzioni dalle strade, alcuni milioni per nuove asfaltature, quindi tutte quelle strade che in più occasioni anche attraverso Fanotv ci avete richiamato, verranno asfaltate, opere di riqualificazione del centro storico ulteriori, lungomare, waterfront, quindi tra Torrette, Ponte e Sasso e Sassogno e Lido, quindi ulteriori investimenti, per cui anche nei prossimi anni faremo cose importanti per lo sviluppo di questa città e per soprattutto renderla sempre più bella e sempre migliorando la qualità della vita.